Mercato energetico è indubbiamente una giungla. Voi avete aperto questo sportello energia per aiutare un po' i cittadini a orientarsi. Esatto. Come hai detto te, la materia è una materia difficile. Dal primo di luglio si aprirà il mercato libero dell'energia, però quello che diciamo è di fare molta attenzione. Ci sono delle piccole compagnie che all'interno delle bollette caricano anche dei costi occulti, che ovviamente non sono parametrati nei contratti principali. Quello che diciamo è, visto comunque tanti distributori che noi trattiamo, i mandati ovviamente abbiamo una pluralità di compagnie distributrici, ci accorgiamo che in alcune ci sono delle criticità. Quindi state attenti, non vi vincolate con un distributore, ma fate dei contratti aperti e se notate delle irregolarità all'interno delle bollette, quindi con dei costi previsti che non sono stati parametrati all'inizio o dal consulente o dal soggetto che vi ha appunto fatto firmare il contratto, cambiate immediatamente il fornitore. Ovviamente il servizio a casa dell'energia è sempre aperto. Noi abbiamo uno sportello dedicato, quindi non col center, che ovviamente creano ancora più disagio. Alcune volte per le varie persone sappiamo che i telefoni squillano in continuazione con queste offerte più o meno vere. Voi potete venire in sede da noi e ovviamente il nostro personale vi saprà dare una consulenza abbastanza approfondita perché noi non rappresentiamo nessun distributore in particolare, ma ovviamente prendiamo e cerchiamo di prendere il meglio per i nostri clienti. Da poco, scusami, abbiamo anche chiuso un accordo con una società che si chiama Risparmio Energia di Arezzo, che sono anche loro un gruppo di ragazzi che appunto ci aiutano con i distributori e con il back office, che è molto difficile. Ovviamente questa attività la fanno da molti più anni di noi. Qual è il consiglio che riuscite a dare e qual è anche poi la strada che riuscite a consigliare? La strada che consigliamo è di leggere bene la bolletta, di capire se ci sono costi di gestione, i cosiddetti CCT occulti, ovviamente costi fissi di gestione dei contatori troppo alti. Sappiamo che una media circa, per esempio, i più grandi distributori, quelli di Enel e ERA, hanno dei costi fissi che in qualche modo all'interno della bolletta montano a circa 12 euro. Se questi costi sono molto maggiorati, ovviamente vuol dire che c'è un problema. Quindi c'è una criticità, bisogna farlo vedere appunto a un esperto per capire se in quel momento siamo frodati o se i prezzi sono rimasti bloccati e non aggiornati con il PUN, che ovviamente sappiamo essere sempre più in variazione.